Grande emozione ieri a Gela per l'arrivo delle reliquie di Santa Rita da Cascia. Tanti fedeli che venerano la taumaturgica santa si sono dati appuntamento nella parrocchia Santa Maria di Betlemme. Erano presenti autorità politiche, civili e militari. Il reliquiario quest'anno sta visitando le chiese dove è presente la devozione alla santa delle cose impossibili. E' un evento storico per la nostra città, per il nostro vicariato in quanto si tratta delle insigne e reliquie di Santa Rita che vengono direttamente dal monastero, sono le uniche al mondo. Tra l'altro è un reliquario molto particolare che l'artista è riuscito a sintetizzare anche quella che è la fede, la devozione e i miracoli che lei ha chiesto a nostro Signore per il popolo di Dio. E' un evento particolare per il nostro vicariato, per la città di Gela. Inizia quest'oggi dalla parrocchia di Santa Maria di Betlemme, dalla periferia e poi andrà in centro dove nella chiesa rettoriale è custodito il culto della tradizione nella nostra città. E' un momento forte per il giubileo indetto dal Santo Padre perché questi momenti servono a riscoprire le nostre tradizioni, quello che è la ricchezza e il patrimonio della chiesa. La comunità è stata preparata a questo evento? Come ha accolto la giornata? La comunità accoglie questo evento suordinario già da un mese che ci prepariamo, da quando ho iniziato l'anno pastorale, nella settimana pastorale, per poter accogliere non soltanto con la festa esteriore, per quello che è possibile alle capacità umane, ma soprattutto accogliere con lo spirito questo evento di rinnovamento e di invocazione di misericordia per intercessione di San Rita. Oggi le reliquie saranno accolte nella piccola casa della misericordia, istituto Regina Margherita. L'appuntamento è previsto per le 16.30, seguirà il breve pellegrinaggio giubilare verso la chiesa di Sant'Agostino. Alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica preseduta da Don Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Armerina e alle 20.30 una veglia di preghiera animata dai giovani che sarà preseduta da Don Lino di Dio, rettore della chiesa. Domani alle 9 e alle 11 celebrazione eucaristica e alle 11.30 Santo Rosario in onore di Santa Rita e la supplica con il congedo. Dopo ogni funzione liturgica sarà possibile venerare la reliquia della Tamaturgica Santa di Cascia, esempio di misericordia e di perdono.